Allora adesso però voglio fare una cosa, scusatemi un attimo perché tanto abbiamo ricostruito l'informazione, adesso facciamo un po' di show. Allora vi faccio vedere il lancio di Diaco, amici della rete del buon umore di Rai2, tra poco a Bellamà, dopo i saluti del mio amico Milo Infante, tra pochissimo! Allora, giochiamo a carte scoperte. Ovviamente io evito di imitare Alberto Matano, lo so fare, però giochiamo a carte scoperte, ognuno di noi ha i suoi difetti, partite più o meno dal quartiere Trieste, qua siamo a Tre Lenti e cominciate a camminare. Ognuno di noi ha la sua personalità e i suoi difetti. Il mio che ha dichiarato è che, siccome sono un precisino, a volte non riesco a governare la rabbia. Qua ci sono i tessuti. A pensarci a Diaco, vola basso, c'è da una parte Mellone, da una parte l'amico Matano al mattino e il mio capo struttura Daniele Cerioni. Grazie a loro ogni tanto riesco a superare un attimo i momenti, diciamo, d'ira che mi attraversano. Va bene. A volte. A volte. A volte. Allora.